buona serata benvenuti a questo spazio televisivo dal titolo leucemie e covid fatti miti e fake news un confronto proprio per dibattere e fare chiarezza sui rischi relativi al covid 19 in relazione soprattutto a una già esistente malattia del sangue come ad esempio la leucemia conoscere infatti le precauzioni fondamentali è importante per ridurre al minimo il rischio di infezione sapere come orientarsi ad esempio e non farsi prendere la mano dalle fake news durante l'emergenza sanitaria la parola pensate più ricercata sul web è stata telemedicina quindi milioni di italiani si sono trasformati in esperti di virus esperti di covid di mutazioni quindi si è creata una vera e propria confusione che di certo non ha fatto bene e continua a non far bene a chi già deve curarsi per una malattia del sangue per questo motivo l'ail di pesaro ha organizzato questo dibattito televisivo che è anche in diretta sul profilo facebook dell'associazione ail ma anche su tutti i canali social dell'emittente london one radio soprattutto una cosa importante da segnalare durante questa trasmissione avete la possibilità di partecipare attivamente e quindi apprestare insomma la dare la vostra opera il vostro piccolo contributo attraverso una donazione per far sì che l'attività importantissima di assistenza domiciliare che fa ail nel nostro territorio possa proseguire possa chiaramente incrementare qualunque donazione quindi sarà fondamentale per aiutare il lavoro di ail andiamo subito a presentare i nostri ospiti voglio partire dal presidente di ail pesaro massimo sierra benvenuto massimo buonasera a tutti grazie di averci ospitati tengo a puntualizzare che la piccola donazione che mi auguro farete non è solo per l'assistenza domiciliare ma anche per la ricerca perché l'ail è da sempre in campo per sostenere la ricerca che diciamo è la parte più importante della nostra mission giustissimo e poi abbiamo in collegamento skype alessandro cecchipaone che ringraziamo tantissimo buonasera buonasera a te buonasera a tutti voi sono io che ringrazio in particolare l'ail per quello che fa da decenni sono sempre al loro fianco perché hanno trasformato una malattia che era una condanna a morte in una malattia che spesso guarisce soprattutto fra i bambini e che comunque viene sempre accompagnata e curata con grande amore con grande efficienza e sempre con grandissimi risultati quindi non potevo mancare grazie ringraziamo anche il sindaco di pesaro matteo ricci benvenuto buonasera a tutti il dottor giuseppe visani che è direttore dell'unità operativa complessa ematologia e centro trapianti direttore di dipartimento di onco ematologia benvenuto buonasera grazie e allora partiamo subito con massimo sierra partiamo raccontando esattamente come saranno appunto utilizzate le donazioni che avverranno in questo attraverso questo evento mediatico abbiamo detto l'assistenza beh certo quello che ci auguriamo che arrivi come donazioni verrà appunto come dicevo prima utilizzato completamente per potenziare la ricerca e non a caso il nostro professor visani è qui perché è stata la persona che ha scritto molti testi e ha pubblicato molte su molte riviste internazionali proprio grazie al supporto dell'ail e per andare sempre più in profondo sulla ricerca perché di ricerca non ce n'è mai abbastanza se passate il termine e poi anche per sostenere l'assistenza domiciliare perché noi siamo molto vicini soprattutto a questa operazione perché ci sono tante difficoltà nell'assistenza domiciliare andare a casa del paziente che ha bisogno di avere una trasfusione e quant'altro non sono un medico perdonatemi magari questa è una cosa che potrà spiegare meglio il dottor visani quindi questi sono i nostri due obiettivi noi siamo nati come AIL e io ho l'onore da soli quattro mesi di presiedere l'associazione di peso la sezione di pesaro e ce la stiamo mettendo tutta per andare avanti per portarci per fare il più possibile speriamo di farcela quali sono i prossimi progetti programmi e programmi sono tanti sono tanti il primo che a breve è la manifestazione delle uova di pasqua che ogni anno ha il propone nelle varie piazze e abbiamo avuto un buon successo devo dire circa quasi il 90 per cento rispetto allo scorso anno per le stelle di natale nonostante questa pandemia questa che ci sta cambiando completamente sta stravolgendo il nostro modo di vivere e anche di pensare aggiungo e cominciamo come dicevo prima in tutte le piazze speriamo tutte e con il classico uovo di pasqua dove anche questo servirà a potenziare sia la ricerca che la l'assistenza domiciliare questo è il primo programma poi ce ne sono tanti altri che verranno ma sono ancora in fase di studio con dottor visani stiamo studiando tante cose faremo un grosso convegno posso anticiparlo questo sì un grosso convegno a livello internazionale a pesaro grazie all'ausilio di dottor visani ma sicuramente credo anche del nostro sindaco che è sempre disponibile non ho mai visto un sindaco ma non perché qui dico la verità non ho mai visto un sindaco così disponibile così attento alla alla città al territorio credetemi sono un po no zingaro io ho girato parecchio l'italia e anche il mondo e trovare all'estero i major come li chiamano in italia sindaci che guardano con un occhio particolare quasi paterno la città vi posso dire che sono poche adesso molti mi spareranno contro però questa è il mio pensiero mi ne assumo responsabilità e il mio pensiero personale e credo in questo quando sarà il questo convegno top secret mandano non c'è una risposta a questa domanda comunque l'impegno di aline il territorio è molto forte molto radicato è molto forte molto radicato grazie soprattutto e qui devo veramente il grazie è una cosa enorme e come la distanza che c'è tra qui e marte visto che ieri siamo atterrati su marte no ecco a tutti i nostri volontari e tutti i nostri soci ma in particolare volontari che impegnano gran parte del loro tempo per sostenere la casa la causa dell'ail non è una cosa da poco perché rinunciare al proprio tempo libero rinunciare alla famiglia per condividere un questa questa bella realtà è una cosa grande sono ancora sono loro l'ail sono loro sono loro che sono grandi sono i volontari non è il presidente non è il consiglio amministrazione sono i volontari e i soci che sono grandi perché sono loro che sono la linfa dell'ail e allora per questo che è importante donare questa sera avete la possibilità di farlo c'è un numero iban a vostra disposizione anche un piccolo gesto è importante cecchi paone ci colleghiamo con lei secondo lei insomma quali sono gli errori che sono stati commessi in questa emergenza sanitaria un eccesso di comunicazione non mediata nel senso che giustamente tutti hanno voluto dare un contributo di informazione ma non tutti erano in grado di farlo né nel nostro mondo perché molte persone di grande valore fra i miei colleghi sono sempre occupati di politica o di cronaca o di costume e sono stati chiamati invece a occuparsi dalla mattina alla sera di una questione molto difficile di carattere medico scientifica purtroppo anche molti scienziati perché ne sono stati chiamati tantissimo non sono non si sono dimostrati abituati a comunicare in maniera chiara in maniera piana e soprattutto in maniera tale da non scatenare insicurezze perché spesso hanno discusso fra loro in diretta non c'è niente di male la scienza è il luogo della libertà la libertà è il metodo della scienza ma davanti al paziente o al potenziale paziente bisogna arrivare con una sintesi e invece tutto il lavoro di progressivo aggiustamento delle conoscenze è avvenuto in tempo reale se fosse stato un esperimento di comunicazione scientifica forse è stato il più grande esperimento di comunicazione scientifica purtroppo c'era tanta gente malata che si ammalava che finiva in terapia intensiva che moriva con relative famiglie che partecipavano a questo disastro e bisognava trovare un punto di mediazione di rassicurazione io dico sempre per fare un esempio che tutti hanno parlato in maniera generosa dando un contributo hanno parlato tanto qualche volta hanno parlato troppo qualche volta hanno parlato in maniera non comprensibile tranne gli unici che dovevano parlare noi in italia abbiamo il grande patrimonio costituito da piero alberto angela a cui tutti credono di cui tutti si fidano che tutti capiscono sono stati in un anno gli unici a non essere coinvolti per me questo è un mistero di cui ho chiesto conto ai vertici della RAI di cui nessuno ha voluto darmi una spiegazione quindi in questo caso parlando dei malati di leucemia o dei loro genitori quando i malati di leucemia sono bambini certamente avranno avuto dei problemi a capire che cosa stesse succedendo quali rischi reali correvano che cosa effettivamente dovessero fare da sempre mi occupo di prevenzione del cancro in generale tanti anni di lavoro con mandelli per l'ail ma anche con il professor veronesi per lo ieo per l'airc e per la fuv il vero problema è stato ed è e sarà che per occuparsi di covid molti hanno abbandonato gli screening le prevenzioni i trattamenti gli interventi chirurgici i follow up quindi noi abbiamo un problema di essere stati costretti dall'emergenza e dall'impreparazione a occuparci giustamente dell'urgenza covid dimenticando quei percorsi terapeutici che sono indispensabili per sconfiggere il cancro cosa che si può fare da molti anni in molti casi o quanto meno per contenerlo per migliorare la qualità e la durata della vita di coloro che ne sono colpiti io credo che le donazioni di questa sera saranno molto utili proprio ad aiutare l'ail a sostenere gli ammalati di leucemie linfomi e i loro parenti a trovare un modo per non interrompere non rimandare le cure gli interventi e controlli anche se la situazione negli ospedali in questo momento è tutta concentrata sulla pandemia qual è stato il ruolo dell'organizzazione mondiale della sanità in tutto ciò è un ruolo in assolutamente insostituibile non c'è ricerca della pace senza le nazioni unite non c'è gestione mondiale globale della sanità senza l'oms anche l'oms si è trovata in qualche difficoltà di comunicazione io ho scritto un libro con il vice ministro della salute che è un medico pierpaolo stile e abbiamo mostrato i documenti in covi da segreto per questo si chiama segreto non eccetto un libro complottista in cui per circa un mese tra gennaio e febbraio l'oms comunicava cose contraddittorie rispetto al rischio che una malattia cinese diventasse una malattia globale e rispetto a come reagire soprattutto dal punto di vista degli screening dei famosi tamponi vi farò vedere vi potrò far vedere vedrete nel libro che più volte l'oms cambiava idea tamponare soltanto quelli con sintomi tamponare tutti tamponare quelli che venivano dalla scena tamponare in maniera statistica e che a campione insomma hanno avuto anche loro dei problemi di informazione tant'è vero cara collega che sono stati loro stessi a riconoscerlo e a parlare di infodemia cioè una epidemia di informazioni non controllate non coordinate che hanno ingenerato confusione e paura come sempre succede quando non c'è conoscenza chiara e condivisa certo esisteva già prima del 31 dicembre 2019 un piano nazionale sanitario in risposta ad una eventuale emergenza pandemica purtroppo no anche su questo il libro è stato il primo a occuparsene adesso purtroppo se ne occupa la magistratura ci doveva essere come sempre l'europa che è lì per salvarci ci aveva più volte richiamato sulla necessità di implementare di aggiornare di verificare il piano pandemico e invece ormai è chiaro che il piano pandemico era stato abbandonato e dimenticato poi come sempre le parole diventano un po magiche no piano pandemico chissà cos'è chissà che non è beh come in tutti i libri e in tutti i film che noi pensavamo di fantascienza ma che sono diventati realtà bisogna avere a disposizione in ogni realtà locale in ogni ospedale dei depositi di mascherine di tute di calzari divisori insomma di ehm tutti quegli oggetti necessari a salvare la vita degli operatori ecco tutto questo non c'era non c'erano i protocolli per dividere i percorsi cosiddetti sporchi e puliti non c'erano mai state le esercitazioni per saper reggere quello che è stato di fatto un attacco chimico batteriologico eh si pensava e si temeva che potesse arrivare da una potenza nemica è arrivato dalla natura stessa quindi purtroppo siamo arrivati senza un piano pandemico nonostante i richiami dell'unione europea eh del eh mondo della ricerca e del famoso discorso di Bill Gates del 2015. Ecco secondo lei cecchi paone quali saranno le conseguenze che il covid lascerà? Allora eh innanzitutto la più spaventosa centomila morti ormai ci siamo quasi e c'è uno strano atteggiamento in un paese che ha eh una tradizione straordinaria sia di carità cristiana che di pietes pietes eh umanistica di pietas umanistica e cioè voi ogni giorno assistete con me a una specie di estrazione dell'otto in cui viene messo un unico cartello un'unica grafica dove ci sono i tamponi ci sono i positivi ci sono i guariti ci sono e poi ci sono i decessi io volevo ricordare alla luce della carità cristiana della pietas umanistica che i decessi sono la cosa più grave meriterebbero una comunicazione a parte meriterebbero una comunicazione partecipata così come è mancata eh la presenza di veri divulgatori e mediatori come gli Angela è mancato un programma magari del servizio pubblico dove per i credenti sacerdoti e assistenti spirituali per i non credenti filosofi o psicologi accompagnassero le singole famiglie e il paese eh a gestire una tragedia del genere 100.000 morti è un numero da da guerra mondiale e invece niente noi abbiamo questo dato tremendo che viene confuso con dati importanti statisticamente ma che sono incomparabili per me sapere quanta gente va in un reparto eh di terapia semi intensiva o di un reparto diciamo di medicina generale e sapere quanti morti abbiamo avuto quel giorno di solito tra i 3 e i 500 beh non è la stessa cosa quindi questa è la prima conseguenza una sorta di disumanizzazione rispetto a un cumulo di vittime che fa spavento la seconda che riguarda di nuovo noi così torniamo al tema della giornata eh sono rimasti fuori dalle cure eh delle tante tante persone bisognerà poi calcolare quante eh di malattie gravi come le cardiocircolatorie eh il diabete ma soprattutto l'oncologico che poi porterà eh purtroppo a un peggioramento di curve di assistenza e di guarigione che erano straordinarie il professore lì presente potrà confermarvi che soprattutto l'Italia che ha tanti aspetti positivi negli ultimi anni stava facendo ehm raggiungere dei risultati meravigliosi nell'abbattimento eh della mortalità e nel miglioramento della durata della qualità della vita di chi ancora non è eh guaribile perché non tutti ovviamente i tumori sono ancora guaribili veramente straordinario rischiamo di tornare indietro di almeno cinque anni perché non abbiamo più la possibilità il tempo eh il personale eh il coraggio di andare in ospedale ripeto per fare quello che si deve fare per tutto questo e che avevamo collaborato tutti a fare invitare la prevenzione, gli screening, le visite eh tutti gli anni eh i trattamenti, i trattamenti fatti nel migliore dei modi insomma gli interventi tutto questo è stato in gran parte sospeso e pagheremo gravi conseguenze che il professore forse meglio di me saprà saprà spiegare. E allora passo la palla all'ottor Visani per parlare un po' della leucemia e anche delle malattie ematologiche una breve panoramica. Leucemia è una parola breve ma la lista delle malattie ematologiche è molto lunga e molto varia perché abbiamo delle forme croniche e delle forme acute. La leucemia che del titolo è quella che una volta veniva chiamata in una variante la fulminante. Alcuni dicono non ridiscono questa terapia ma era veramente così. Cioè ancora è una forma che guarisce adesso senza neanche la chemioterapia purché tu la prenda presto altrimenti ti fulmina davvero. Di fatto eh queste malattie io le inserirei direttamente nel campo covid di cui stiamo parlando adesso eh e mi aggancerei a quanto detto da Alessandro poco fa. Quello che ha detto Alessandro è verissimo per quanto riguarda l'oncologia dove c'è molta prevenzione, molto follow up. Nel campo ematologico la prevenzione è molto scarsa perché è il tipo di malattia che è diversa, è difficile prevenirla. Però quello che si può prevenire sono situazioni tipo quella che è avvenuta. Vi faccio l'esempio di Pesaro. Noi abbiamo un'esperienza sulle polmonite intestiziali che deriva dai trapianti. Virus che non siano il covid ma precedenti possono portarvi a un trapiantato nello stesso tempo che fa il covid quando era in marzo che la gente moriva in tre quattro giorni. Quindi sapevamo che cosa stava arrivando quando abbiamo sentito la situazione. E la seconda cosa è che i nostri pazienti stavano bardati già per controllo. La mascherina per loro è una specie di seconda pelle. E questo era anche l'abitudine del reparto. Non lo è in altri reparti perché a un certo momento non c'è l'abitudine di essere già pronti così. Io aspettavo il momento perché era arrivato il primo caso in Lombardia e due ore dopo che c'è stato il primo caso nelle Marche mi sono affiondato nella direzione dell'ospedale dove il direttore generale, la dottoressa Capalvo, mi ha dato ascolto asseverando le cose che volevo io. Cioè io ho barricchato il reparto praticamente. Il reparto di aver barricchato vuol dire fare il molecolare. Nessuno poteva entrare se non aveva un molecolare tampone regolamentare negativo, non un tampone rapido. E lo stesso per il personale che veniva scrinato in continuazione praticamente. E chi stava nella parte trappianti non poteva andare dall'altra parte. Quindi sono stati avvertiti di cercare di stare attentissimi anche a casa loro. Ma l'abitudine dei pazienti di essere già protetti ci ha aiutato molto. Cosa ha determinato? Questo ha determinato una cosa importante. Che noi il nostro numero di trappianti nel 2020 è stato appena inferiore a quello dell'anno prima. Vuol dire che le terapie le abbiamo fatte tutte. Abbiamo visto un po' meno di pazienti in ambulatorio perché c'è stato un momento che la regione ha giustamente detto che le visite non urgenti adesso le fermate. Però il resto siamo riusciti a tenerlo. Quindi la lezione che ne viene, che abbiamo pubblicato anche su una rivista europea importante, è che se tu ti proteggi e fai tutto, noi per un anno, poi non sapremo il futuro, siamo riusciti a non far entrare il Covid lì dentro. E quindi è stato un risultato importante perché potevamo avere un'epidemia, c'è gente che ci moriva a gruppi. Questo è stato il ragionamento. Abbiamo pagato un altro lato altrettanto importante. Normalmente tenevamo dentro parenti, per esempio al trappiantato che è da solo. È vero che c'è la tecnologia, ma non è la stessa cosa. E quindi abbiamo dovuto rinunciare in parte a quello. Su questo c'è stato un intervento di tipo psicologico di cui magari se ci rimane un minuto di tempo, dopo parlerei volentieri. Sì, infatti prima di parlare di questo volevo sapere, insomma, come vi siete protetti nella prima fase appunto di questa pandemia e anche dopo contro questo virus? Ah, molto semplicemente. Abbiamo usato le procedure che vengono date, che erano quelle che usavano anche prima. La mascherina, possibilmente l'FP2 in determinate situazioni, ma comunque le mascherine noi le usavamo, quindi eravamo riforniti in quel momento. Il distanziamento, il lavaggio quasi continuo delle mani, quando lavoravo prima di iniziare a Bologna, mi vedevano come un orsetto lavatore, erano sempre lì che mi lavavo praticamente, altro che un chirurgo. Quindi queste abitudini inserite in un gruppo già preparato a questo, fa sì che tutti stanno attenti a tutti e quindi se qualcuno non si comporta bene, insomma, lo piluccano. Questo è il ragionamento. Queste sembrano misure che certe gente, ma non servono, servono, ma là che servono, servono molto. È evidente che se adesso arrivano delle varianti, si dice che l'FP2 è migliore, forse ci vorrà altro, però intanto in questo periodo questo abbiamo fatto e questo è il risultato, è inoppugnabile. Non abbiamo fatto molto altro, tranne dire ai pazienti maggior rischio, perché anche fra quelli ematologici ne sono più a rischio e meno a rischio. Le leucemie acute, il paziente trappianato da poco, hanno un'aumentata mortalità da Covid enorme, cioè non sono chiacchiere o piccole frazioni percentuali. C'è uno studio a cui ho partecipato con il mio gruppo, che è finito sul New England, quindi la rivista Maggiore, che parla per alcune di queste patologie ematologiche di 41 volte il rischio di mortalità rispetto alle persone che non hanno la stessa patologia in presenza di Covid. Quindi a loro è stata raccomandata un'attenzione assoluta, che già in parte avevano e quindi hanno cercato. Poi c'era qualcuno che sgattaiolava. Sì, infatti voglio sapere come hanno regito loro, sapendo di questa pandemia e sapendo di essere così a rischio, insomma, ancora più degli altri. I pazienti ematologici, quelli con problemi importanti, avevano già paura delle infezioni e questo li ha aiutati, al punto che ci chiedono e si sentono più protetti se possono essere ricoverati quando c'è un problema. Generalmente si accetterebbero più volentieri di stare in dei osti, ma se c'è una scelta fra le due, dico, ma perché non vi prendete dentro? Anche se, insomma, quella che prima era una prigione, perché era una prigione in qualche modo, anche se è dorata, abbiamo un reparto bello, spero che Alessandro possa venire a vederlo quando le cose sanno un pochino meglio. È una prigione che stavolta è stata richiesta. Tenete in ben lì, che sono molto più tranquillo. Posso dire una cosa che cambiano? Il valore è quello che ha fatto il professore e il suo reparto, quando mi veniva chiesto il piano pandemico. Il piano pandemico doveva prevedere tutto questo per tutti i reparti e invece, a parte i reparti che già lo facevano per specificità delle attività svolte, tutti gli altri reparti erano scoperti e non sapevano fare queste cose che loro facevano già da prima per le caratteristiche tipiche dei trapiantati di tumori liquidi. È esattamente così, sintesi perfetta, non l'ho detto io, l'ho detto Alessandro, ma è proprio così. Ecco, e cosa si può fare di pratico proprio per proteggere il maggior numero di persone possibili? Beh, adesso le possibilità di protesi ce le abbiamo, oltre alla prevenzione fatta con le misure di stanziamento, la mascherina, che ripeto di nuovo, il lavaggio delle mani, la disinfezione che sono importanti e non andranno sottovalutate neanche a seguito. Adesso le armi cominciano ad averle, tra i vaccini, gli anticorpi monoclonali, insomma non è che siamo messi male. Ecco, il problema reale, che forse conosce meglio Alessandro di me, è la possibilità di vaccinare molta gente rapidamente, vista la situazione che c'è, e quindi non ritardare. Per cui lì, quale sia il migliore, quale sia il migliore, non lo so. Noi, col fatto che eravamo operatori in posti ad alto rischio, ci hanno vaccinato, io sono vaccinato il 27 di dicembre, ho fatto il richiamo il 17 gennaio e ieri ci avevo 174 anticorpi, chiamiamo il 17 gennaio, è una specie di, posso spaccare un virus a testate circa, praticamente. Quindi l'importanza del vaccino, il 24 IgG? IgG, è tanto, cioè insomma, per cui vuol dire che puoi riuscire veramente a proteggerti, poi non ti proteggerai, ma al mondo non ci si protegge verso tutto, ecco, quindi la realtà è che ci dobbiamo sbrigare, cercare di coprire più persone possibili per ridurre appunto il rischio. Adesso siamo anche più abituati come servizi sanitari a gestire la pandemia, però questo non basta, bisogna aiutarci. Poi ci sono questi monoclonali, di cui ho collaborato a scrivere un protocollo per uno studio, adesso proprio recentemente, che sono estremamente interessanti, perché il monoclonale è un qualche cosa di, come si può dire, quasi marziano, visto che siamo nel tema, e che usiamo però da tanto tempo nelle malattie ematologiche, oncologiche e in altre, anche in quelle reumatologiche. È quello che ha cambiato praticamente la proniosi dei pazienti con i linfomi, di molti di questi, è cambiata da un miglioramento e una certa parte guariti a una gran parte guariti in alcune forme, però alcuni di quelli avevano degli effetti collaterali importanti. Questi con il Covid sembra ne abbiano quasi niente, quindi sono un sistema che se verrà aumentato avrà dei costi, non è economico, però è un'aggiunta in più e servirebbe soprattutto nelle persone all'inizio della malattia, che hanno un alto rischio, un gruppo che abbia alto rischio di peggiorare e che trattata subito, modello Trump, che rischiava di morire, è tornata a casa dopo qualche giorno, blatterando che è diventato Superman, ecco. E quindi a un certo momento è interessante la cosa. Ma lui è convinto. Prima di dare la parola al sindaco, lei poco fa parlava appunto di un supporto psicologico? Sì, noi abbiamo delle psicologhe, che ringrazio perché è un servizio importante che ci ha fornito Marche Nord e ci ha creduto nella psicologia, quindi non è una cosa da poco. ne abbiamo in particolare due che vengono da anni, che dicono loro stessi che il paziente ematologico è diverso dal paziente oncologico per caratteristiche particolari. È un paziente che sicuramente spesso ha una speranza di vita anche superiore che sente e che quindi lotta magari sul filo del rasoio per vincere questa battaglia. Nel campo oncologico è così e per alcune non è così per altre forme. Quindi insomma gli approcci sono diversi. Di fatto queste psicologhe si sono dovute trasformare da al letto del malato, dove parli direttamente, a pronto telefono amico, che è un'altra cosa. L'avranno preso per una cosa che non andava tanto bene. Invece si sono rese conto che è una nuova via di comunicazione anche in campo psicologico, non è ancora definita. Magari capitasse un'altra occasione, parebbe la pena di approfondirlo questo tema. Di fatto l'altra cosa è che appunto i pazienti si sono sentiti comunque protetti lì dentro e hanno cambiato la versione prigione, la versione prigione dorata che mi protegge in qualche modo. Poi è chiaramente molto pesante perché temono per i loro familiari, insomma diventa una cosa non facilmente gestibile. Però ripeto, un servizio a distanza ha prodotto di più di quello che ci aspettavamo. Poi c'è stato anche qualcuno che ha detto, ma si colga il telefono, ma ne voglio sapere, però è stato l'1%. È stato un servizio comunque utile e efficace. Così come utile e efficace il sindaco è stata anche la sua volontà di volere lo screening nelle scuole, che insomma sono andati anche molto bene. Sì, perché adesso noi avremo mesi nei quali da una parte dovremmo spingere il più possibile alla vaccinazione, perché è chiaro che vaccinarsi in questo momento è un dovere, come ci ha ricordato il Presidente della Repubblica, il discorso di Capodanno. È un dovere civico, etico, morale nei confronti di chi non potrà vaccinarsi per debolezza, per malattie che ha, per criticità che ha. Credo che sia anche un dovere rispetto alla questione socio-economica, non è il tema di stasera, ma è evidente che non ci sarà ripresa, non ci sarà occupazione fino a quando questo virus finalmente non sarà sconfitto. Lo sconfiggeremo soltanto con il 70% di vaccinati, con il raggiungimento dell'immunità di Grecia. Sappiamo i problemi che ci sono in questo momento in tutta Europa, perché siamo stati diciamo troppo ottimisti sulla capacità di fornitura, di distribuzione del vaccino da parte delle aziende farmaceutiche, però è evidente che non ci devono essere neanche ostacoli, diciamo, della volontà delle persone a vaccinarsi, perché sarebbe davvero incredibile ritardare il raggiungimento dell'immunità di Grecia, perché una parte della popolazione non vuole vaccinarci. Adesso si inizierà la vaccinazione per gli utortantenni, finalmente anche da noi, a Pesero abbiamo individuato un luogo che in genere ospitava già gli anziani, un centro anziani che è stato chiuso ormai da un anno, quindi ci stiamo attrestando per quello, al tempo stesso però penso che noi per, come dire, evitare di richiudere tutto di nuovo abbiamo bisogno di controllare le persone frequentemente, soprattutto in quei luoghi che fanno comunità. Le scuole sono uno di questi, cioè la scuola non può essere sempre la prima cosa che chiudiamo e l'ultima che si riapre. Adesso la scuola è al 50% in presenza per le scuole superiori, abbiamo già fatto uno screening generale di studenti e personale scolastico, lo rifaremo tra un mese, volevamo che lo facesse la regione ma non si è riusciti al momento a trovare un accordo perché questo può permettere una scuola sicura o comunque maggiormente sicura. La stessa cosa la si può fare negli ambiti sportivi, nelle aziende come già in tanti fanno, c'è Alessandro qua, io ogni volta che vado a Mediaset devo fare il tampone e tutti i dipendenti di Mediaset mi raccontano che lunedì mattina fanno il tampone. Quindi voglio dire già alcune aziende lo fanno ed è un modo per garantire a tutti in quel caso il lavoro in sicurezza. Un anno fa non era possibile, non sapevamo neanche qual era il metodo, non era possibile neanche sei mesi fa, ora è possibile, quindi credo che lo screening sia un elemento fondamentale. Prima mentre il professore parlava, mentre Massimo parlava mi è venuto in mente che il dottor Isidori che è un medico bravissimo dello staff del professor Visani, appena arrivato il covid, credo in quei giorni, ha chiamato mia mamma che è una sua paziente da tanti anni, che è stata curata in questi anni benissimo per una leucemia cronica, la prima cosa che ha detto è che non devi più incontrare tuo figlio, perché ha immaginato il dottor Isidori che io incontrassi tutti i giorni decine, centinaia di persone, potessi essere in quel caso un elemento di grande rischio per mia mamma. E così è stata, l'abbiamo richiusa dentro casa, abbiamo portato la spesa dalla finestra, un giorno io, un giorno mia moglie, e così l'abbiamo protetta, perché ovviamente era uno di quei soggetti a rischio. Ricordo anche a proposito di morti e di strazio, anche qui in questa trasmissione, la cosa più brutta da sindaco è stata quella non solo di tantissimi morti, noi abbiamo avuto nel mese di marzo quadruplicata la mortalità, nel mese di aprile più che raddoppiata nella città di Pesaro, all'inizio siamo stati una delle zone più colpite. La cosa più straziante sono state le telefonate che ho ricevuto dai familiari che non potevano neanche salutare i propri cari prima di morire, non potevano fargli il funerale, è stata una cosa che non è mai successa neanche durante le guerre, a proposito di impatto psicologico sulle persone, sulle famiglie, quindi è stato davvero un dramma incredibile, e tuttora lo è, quindi c'è il tema della solitudine abbinata alla malattia, gli anziani, i focolai nati nelle case di riposo, adesso ovviamente per tutelarli da mesi spesso e volentieri non vedono i propri cari, queste stanze bruttissime con i cellofan che si sono create per creare un minimo di contatto, che a me fanno un po' tristezza, però capisco che in alcuni casi è l'unico modo per avere un contatto, le nuove tecnologie che hanno aiutato a ridurre le distanze ma che non sono state la stessa cosa, quindi è stato davvero un anno che ha cambiato drasticamente il nostro modo di vivere. In questo anno però noi abbiamo scoperto ancora una volta, vengo all'AIL, abbiamo scoperto che Pesaro ha però un grande cuore, tante donazioni, credo che l'ospedale grazie anche all'aiuto che abbiamo dato come comune di organizzativo, diciamo ha raccolto milioni di euro nella prima fase, donazioni spontanee per aiutare i sanitari nel lavoro che facevano, lavoro straordinario e poi noi abbiamo aperto un conto SOS Pesaro per aiutare le famiglie più in difficoltà, cioè Pesaro ha sempre risposto alla grande e l'AIL è la dimostrazione che Pesaro ha un cuore grande, il reparto di ematologia da sempre è stato uno dei più sostenuti attraverso l'AIL, sia per l'accoglienza dei bambini, sia per la ricerca e noi siamo vicini all'AIL perché un sindaco è un dovere, noi siamo orgogliosi dell'AIL in generale per quello che fa ovunque, ma in particolar modo per quello che ha fatto e che fa Pesaro, sia per la ricerca che per l'assistenza domiciliare, che per l'assistenza per le famiglie, quindi credo che anche questa volta, grazie a questa trasmissione, i pesaresi dimostreranno ulteriormente di avere un grande cuore, daranno una mano a un'associazione importante e questa trasmissione ha anche il merito di sottolineare che le persone continuano purtroppo ad ammalarsi e morire di altre malattie, che non c'è solo il Covid, quindi è importante concentrare la ricerca sul Covid e devo dire che la scienza ha avuto un risultato straordinario perché in pochi mesi arrivare al vaccino è stata una cosa straordinaria, ma dobbiamo continuare a concentrarci sulle malattie oncologiche, sulle malattie cardiovascolari, sulle malattie per le quali ancora tantissime persone muoiono o vivono in maniera molto molto limitata e dolorosa, quindi forza AIL che significa parallelamente forza Pesaro in questo caso. Sì, e allora Massimo facciamo un ultimo appello a tutti quelli che ci stanno guardando, siamo collegati anche sui social, su Facebook, siamo su tantissimi canali, anche AIL nazionali, quindi facciamo un appello a donare. Mettetevi una mano sul cuore, adesso ce l'ho qui a sinistra, a destra, ma in realtà è qui a sinistra, AIL, e basta poco, voi pensate che grazie al contributo di tante persone, tante donazioni spontanee, lo scorso anno, se non vado errato, Giuseppe, abbiamo fatto circa quasi mille trasfusioni, quindi senza entrare nello specifico qual è il costo, eccetera, eccetera. Quindi è importante donare, perché fa bene a chi riceve, ma credo che faccia bene anche a chi dona, fa star meglio. Però voglio dire solo una cosa, prima mi hai fatto una domanda sui progetti futuri di AIL. Ce n'è uno qui, ci teniamo molto, dove stiamo già lavorando grazie alla sinergia, perché credo che sia importante stringere sinergie con le altre associazioni che aiutano, e questo grazie alla Ollus Gulliverd, sempre di Pesaro, stiamo rimettendo, in gergo tecnico si dice che stiamo facendo un re-facing, facciamo un po' l'inglese, cioè stiamo rimettendo a posto uno spazio che noi abbiamo all'interno del villaggio AIL, che invito tutti coloro che sono in questo momento all'ascolto magari a venire a visitare, perché così ci si rende conto di cosa fa l'AIL e poi magari andare dal professor Visani per vedere, per incontrarlo personalmente. All'interno del nostro villaggio creeremo uno spazio che sarà un punto di aggregazione, probabilmente partiremo, sarà pronto per maggio-giugno, un punto di aggregazione destinato non solo ai pazienti ospiti nel nostro villaggio, ma anche quando i familiari andranno a trovarli, eccetera, eccetera. Il pazzo presidente ha pensato anche di mettere un biliardino. Ma perché vi dico… È un momento di aggregazione, anche di confronto. Certo, vi dico questo perché io ho avuto occasione di conoscere alcuni ospiti nostri e ho parlato con loro e vi posso garantire che parlando con queste persone che per quanto siano coccolate, seguite in maniera egregia dallo staff medico e quant'altro, guardando negli occhi capisci la loro forza, cioè capisci quanto sono forti queste persone ma capisci anche quanto hanno bisogno di parlare con qualcuno, perché comunque sono persone che stanno in una casetta, confortevole, quello che vuoi, ma sono lì, non sono a casa loro. Un giorno un paziente che ho conosciuto tramite il professor Visani mi ha detto sai, presidente, mia mamma ha questa cosa qui, ha un piccolo cane, lo posso portare? Io sono rimasto un attimo e così dico, ma certo che lo puoi portare, perché credo, e poi ne ho parlato anche con Giuseppe, chiaramente, credo che anche queste piccole cose aiutino a guarire. Aiuto a far capire, noi ci siamo, però siamo qui, siamo con te e cerchiamo di fare tutto il possibile, ce la mettiamo tutta, veramente tutta, per fare in modo che tu, che in questo momento stai attraversando un periodo poco felice della tua vita, questo periodo rimanga comunque felice e ti rimanga anche un buon ricordo di Pesero, perché alla fine sei a Pesero. Posso dire una cosa a sostegno di questa operazione e a supporto delle donazioni, che sono fondamentali, certo sono fondamentali per la ricerca, è un grande politico del futuro come Matteo Ricci, abbiamo bisogno che il paese investa di più, siamo uno degli ultimi paesi come investimenti in ricerca e questa cosa non va bene, però appunto le donazioni private sono fondamentali per questo tipo di situazione. Io vorrei, per sostenere la campagna di donazioni all'AIL di Pesero, che in una parola o il Presidente o il Dottore spiegassero perché serve un villaggio per coloro che sono sotto, in alcune fasi del trattamento per le leucemie e i linfomi, perché per fortuna la maggior parte della popolazione non si ammala di leucemie e linfomi e non ha parenti o amici, quindi magari non sanno perché avere questo villaggio che io non vedo l'ora di visitare quando riapriranno i confini fra le regioni se sono così importanti. Se posso rispondere, noi vediamo persone che sono da tutta Italia e comunque anche distanti qui nelle Marche, avere un appoggio così vicino come il noto che si arriva a piedi direttamente è una cosa eccezionale per le famiglie, al punto che alcuni si affezionano al loro appartamento e non è così facile, adesso insomma comincia a essere così, però ecco diventa un aspetto di seconda casa in cui vivi in maniera normale perché sono appartamenti in cui non hai la sensazione di essere vicino a un ospedale, quindi questo è molto importante, posso un po' gestirli come vogliono, l'AIL è abbastanza elastica da questo punto di vista, è importante, ecco, quindi... Sì, è un'eccellenza. Fino adesso mi avete fatto anche troppi complimenti, in verità oltre l'AIL, oltre a Alessandro che si batte su queste vicende da tanti anni ed è un testimonial importantissimo, il lavoro che fa Massimo, cioè tutto ciò a Pesaro ha una forza perché c'è una struttura di emotologia ad eccellenza, cioè noi ne parliamo troppo poco ma il professor Visani e la struttura che sta intorno a lui è davvero un'eccellenza della nostra città e le persone vengono qua a curarsi perché si fidano, perché hanno qua una grandissima professionalità. Il ruolo dell'AIL è fondamentale per ridurre il disagio, per accompagnarli, per sostenere le famiglie nella maniera più informale possibile, come veniva detto, e il villaggio è straordinario per questo, però se non ci fossero dei medici davvero straordinari come il professor Visani le persone andrebbero a curarsi altrove, invece vengono qua perché qui sanno che trovano il massimo della competenza. E allora donate, 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 mi raccomando, io saluto Alessandro Cecchipaone, grazie mille Alessandro per essere stato con noi. Queste persone appena aprono le regioni. Benissimo, ci vediamo presto allora. E poi ringrazio Massimo Sierra, grazie mille. Grazie a voi. E poi il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Grazie, buonasera a tutti. E grazie come sempre al dottor Visani. Grazie. E allora buona serata a tutti voi e grazie per essere stati in nostra compagnia. Grazie.